Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Mario Mattia Giorgetti, lei ha detto che dal 1981 c'è questo rapporto con la Sicilia che adesso è venuto il momento di tornare indietro quello che ha ricevuto da questa terra. Oggi la presentazione di questo progetto che si chiama Sicilia, palcoscenico d'arte mediterraneo. Che progetto è? Dunque, il progetto nasce perché la Sicilia è veramente il palcoscenico del Mediterraneo. Io che dirigo una rivista internazionale ho rapporti con i grandi festival internazionali e allora mi sono posto il problema, ma perché non possano essere portati qua in Sicilia? E da lì mi è nata l'idea di fare un programma articolato, non solo rivolto alle compagnie internazionali, ma rivolto anche sul territorio. Perché le compagnie internazionali sono di passaggio, ma bisogna creare però un'anima sul territorio e quindi abbiamo pensato di cominciare a recuperare una maschera importante che è Peppe Nappa e poi fare degli incontri culturali, di poesia, di letture, insomma animare un po' il territorio. Non solo qui a Sciacca, ma anche in giro, perché tutti i posti, anche i più piccoli e più disorganizzati, devono avere un rapporto col teatro. Questo è il motivo per cui io restituisco alla Sicilia ciò che mi ha dato, perché nell'81 ho fatto il direttore del festival Tormino, ma poi ho fatto i confronti internazionali a Camarina, ho fatto delle cose a Sciacca Mare, a Capo Unni, insomma ho lavorato moltissimo e quindi devo restituire quello che la Sicilia mi ha dato. Per quanto riguarda la maschera del Peppe Nappa, che qui da noi è legata al Carnevale, alla manifestazione, la sua è un'operazione molto ambiziosa, quella di dare a Peppe Nappa un tocco, una missione internazionale, così lei ha fatto il paragone con Allerchino. Sì, io vengo dal piccolo teatro, quindi conosco bene la mentalità di Giorgio Orstrele, che recuperò questa maschera che era Arlechino e sulla quale ci ha montato questo spettacolo Arlechino servitore e i due padroni, che è stato portato in giro per il mondo, ma in tutto il mondo. Allora, sapendo che esiste una maschera importante come Peppe Nappa, ho detto perché non deve tornare a vivere e fare il giro che ha fatto Arlechino? Arlechino non è una maschera del nord, allora occorre una maschera del sud. E credo che Peppe Nappa abbia qualcosa di più di Arlechino da raccontare, perché la Sicilia è ricca di storie, è ricca di avventure, è ricca di ricchezze naturali, ma anche di tanto cibo buono. E quindi Peppe Nappa diventerà messaggero dei cibi siciliani. Questo è un invito che faccio a Salvatore Monte, che ha accettato di raccogliere questa mia idea. E quindi andremo in giro per il mondo, grazie agli istituti italiani di cultura che ci stanno aspettando. Lei qualche anno fa è anche il promotore di quello, Sciacca si vanta il fatto di aver avuto come ospite Carla Fracci, la grande Carla Fracci, e grazie al suo rapporto che Carla Fracci venne proprio a Sciacca e venne in quello che è stato il teatro ancora incompiuto, chiuso, che però in quel frangente si aprì proprio in occasione della grande artista. Lei ha detto durante la conferenza stampa che una città senza un teatro è una città senza vita. Io penso che ogni comune dovrebbe avere un suo teatro perché il teatro non è importante l'edificio, è importante un luogo dove si possono raccogliere i cittadini, incontrarsi, conoscersi, promuovere la cultura. Cioè il teatro ha bisogno di un'anima per avere il suo significato. E io devo dire che ho sofferto perché da lontano, nel 1978-79, quando mi occupavo di Sciacca mare, il teatro era chiuso. Poi l'abbiamo riaperto grazie a Carla Fracci e lì ci fu una promessa da parte del sindaco che sarebbe stato riaperto. Adesso sono qua ed è ancora chiuso. Quindi l'invito che faccio alla cittadinanza è di farsi opinione pubblica, di pressione politica perché una città senza teatro è una città senza un'anima. Salvatore Monte, una delle mission di questo progetto di Mario Mattia Giorgetti è la maschera di Peppe Nappa che viene, diciamo, tolta da quello che da noi rappresenta, ossia il Carnevale di Sciacca per portarla nei teatri, un'operazione ambiziosa come quella di Allerchino. E proprio lei è chiamato a interpretare questa maschera che le è tanto cara, tra le altre cose. Esatto, mi soffermerei dicendo che è un'immagine comunque a me cara per tutta sei ragioni che non sto qui a dire però l'idea di Mario Mattia è sicuramente particolare perché dopo Arlechino, come dicevi bene tu interpretato in maniera eccelsa da Ferruccio Soleri, immaginare oggi a un Peppe Nappa interpretato lo sottoscritto, io sono molto terrorizzato perché una cosa è quando organizzo io conosco i miei, come dire, limiti, i miei pregi e difetti, quando in questo caso sono sotto un'altra persona sono terrorizzato perché la cosa è particolarmente complicata, però sono dell'idea che possiamo valorizzare una maschera, possiamo valorizzare un territorio, una comunità anche attraverso una cosa che noi conosciamo per il Carnevale. Quindi l'idea mi piace, l'ho sposata, chiaramente non potevo dire no assolutamente, perché una proposta che arriva da una fondazione importante, da una rivista che per il mondo del teatro è sempre stata, diciamo, un faro da seguire che è la Sipario, chiaramente per me è una grande soddisfazione. So che bisognerà lavorare, però torniamo un po' alla normalità, torniamo alle cose che ci piacciono fare. Mario Mattia Giorgetti ha detto, una città senza teatro è una città senza anima, in questo momento il teatro vive un momento particolare, difficilissimo, difficile organizzare qualsiasi tipo di evento. Il pubblico non può tornare in teatro in questo momento, se non con regole ferre che forse vanno bene per i grandi teatri dove ci sono grosse produzioni e non è da noi, insomma, che siamo in provincia. Allora, come vede la possibilità di riapertura del teatro Samonà? Lei, tra le altre cose, ieri da operatore politico ha incontrato l'assessore Samonà? Ieri sono stato dall'assessore Samonà perché mi rendo conto che noi abbiamo bisogno di accelerare un po' l'iter legato al teatro. Il teatro è chiuso da troppo tempo e io da operatore culturale, da operatore politico, ho voluto farmi una chiacchierata con l'assessore Samonà, che tra le altre cose porta il nome del nostro teatro perché il progettista è il suo zio, quindi lui mi dice sempre io ho un affetto particolare per quel posto perché chiaramente lo sento di famiglia e vi devo dire che io ho rappresentato l'esigenza del palcoscenico. Ho detto, Alberto, secondo me bisogna dedicarsi al palcoscenico, dedicandosi anche alle altre sale convegno, però non possiamo lasciare una città senza teatro e limitarci esclusivamente alla platea che conosciamo tutti e che abbiamo vissuto in altri periodi. Ricordiamo la grande Carla Cafracci. Ricordiamo Carla Cafracci tra le altre cose organizzato dalla Fondazione Terron e non solo, quindi Gino Paoli, Riccia Relico, quel teatro era partito, quindi oggi c'è l'esigenza di rifarlo partire ovviamente per come lo avevamo lasciato ma anche ampliare finalmente il palcoscenico. È stato assunto un impegno. Io come ho detto sarò attaccato come un cane da caccia perché mi rendo conto che bisogna smuoversi e andarsene almeno una volta a settimana a Palermo per rompere le scatole. Cioè bisogna mettersi dietro la porta e ogni giorno dire dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo. Facciamolo. Arrivato a questo punto credo che da cittadino di questa città che sente il bisogno di ridare una struttura alla propria comunità bisogna fare questo sforzo, quindi facciamolo tutti insieme. Poi sotto il profilo prettamente burocratico vi dico che oggi organizzare è un inferno. Noi lo stiamo vedendo personalmente con altri spettacoli, tra cui il primo che debutterà a fine luglio dedicato all'Oleastro di Inveges, che è già un'operazione complicatissima perché i posti è sedere all'aperto e bisogna creare tutte le condizioni di sicurezza, quindi eravamo fermi a un periodo già particolare. Oggi le regole sono diventate assurde. Se una città senza teatro è una città senza anima, in questo momento sciacca effettivamente tutte le compagnie che invece fino a qualche anno fa animavano il settore culturale cittadino sono tutte bloccate, tutte ferme. Cosa si aura? Intanto di passare questo periodo di grande difficoltà legata alla riorganizzazione, però io confido nel fatto che noi abbiamo in città elementi che negli anni hanno dimostrato di saper far bene. Io credo che la città avanti compagnie importanti, dal gruppo Teatro 13 alla compagnia dell'Isola, Teatro Oltre, sono realtà che pian pianino si rimetteranno in moto, devono rimettersi in moto. È chiaro che in questi anni di fermo è venuta meno la coltivazione della nuova frontiera giovanile, perché comunque siamo in questo momento sempre gli stessi. Io non nascondo che sto puntando molto al fatto di avvicinare giovani al mondo del teatro, così come facevamo ai tempi dei nostri laboratori teatrali di tanti e tanti anni fa. Noi siamo cresciuti tutti lì, c'è bisogno di tornare a fare questa scuola. Mi permetta l'ultima battuta, Sciacca non ha un cartellone al momento attivo, c'è stata la pandemia, molte altre cittadine però hanno già dei concerti, degli spettacoli, insomma quello che si può fare Sciacca ancora non ce l'ha. Mi auguro, e lo dico da persona che ha proposto iniziative al Comune di Sciacca, lo dico senza alcun problema, di avere delle risposte. Le aspettiamo anche sotto il profilo organizzativo e spero che il Comune possa trovare soluzioni valide anche con gli organi di polizia per quanto riguarda le autorizzazioni e dare il via a una stagione che ovviamente sarà complicata come quella dello scorso anno ma che va organizzata perché giugno è finito, non c'è la festa di San Pietro ma io vi ricordo che andranno via le mascherine. Andranno via le mascherine e vi devo dire che essendo in zona bianca qualcosina si può fare. Quindi all'assessore dico amichevolmente che solitamente a San Pietro si deve uscire il cartellone. San Pietro è il 29, la prossima settimana quindi ha bisogno di darsi una smossa perché la città ha bisogno di tornare a svagarsi e noi operatori abbiamo bisogno di riaffezionare quello zoccolo duro di pubblico che negli anni ci è venuto dietro.